Musica Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, mercoledì 25 maggio, si venera San Veda. San Veda, detto il Venerabile, è stato un monaco storico inglese vissuto nel monastero benedettino di San Pietro e San Paolo in Inghilterra. E' famoso come studioso e autore di numerose opere, tra le quali la più conosciuta è la Historia, storia ecclesiastica del popolo inglese che gli evalza il titolo di padre della storia. E' stato dichiarato santo e dottore della chiesa dalla chiesa cattolica, scrisse su molti altri argomenti, dalla musica alla poesia ai commentari biblici. E' citato da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Il motto riportato nello stemma di Papa Francesco, ma eserendo e credigendo, è tratto da un passo delle omelie di Beda il Venerabile. Entrato nel monastero all'età di 7 anni, divenne diacono a 19 e sacerdote a 30 anni. Fu educato dagli abati Benedetto, Biscop e Ceolfrid e probabilmente fu quest'ultimo ad accompagnarlo agli Arrov nel 682. Qui trascorse il resto della sua vita, dividendo il suo tempo tra lo studio, l'insegnamento, l'attività di scrittore e l'assorbimento delle funzioni monastiche. La sua edizione della Bibbia fu molto importante e fu utilizzata dalla chiesa fino al 1966. Il suo ultimo lavoro, completato sul letto di morte, fu la traduzione in lingua anglosassone del Vangelo secondo Giovanni. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie delle pagine nazionali. Dal Corriere della Sera, in apertura le pensioni minime, si cambia, Renzi annuncia bonus o assegni più alti, interventi anche sulle uscite anticipate. Previdenza quindi, incontro governo sindacati, aperti due tavoli di confronto, Camusso, novità non da poco. E poi nel taglio alto la sentenza, uccise Ciro Esposito, 26 anni, all'Ultra De Santis. Vediamo in centropagina la fotonotizia, la riforma del lavoro, occupate le raffinerie, interviene la polizia, rivolta contro il Job Act, scontri e feriti in Francia. La banca, il passo indietro di Ghizzoni, svolta Unicredit. In breve vediamo in alto l'idea strategica, le soluzioni condivise di ritornare alla concertazione. Poi ancora il referendum costituzionale, votare sì o no, i dieci perché. E Mattarella, il populismo, ci sono forze disgregatrici. Nel taglio basso, i nuovi anziani, generazione senza età, Nobel e ricercatori, la soglia over 65 non ha più senso, la longevità diventi risorsa. Passiamo alla Repubblica, pensioni così la riforma, disgelo governo sindacati, sì alla flessibilità, Renzi promette più soldi alle minime. Il premier, i candidati del Movimento 5 Stelle e Manovrati, Napolitano, lega xenofoba, insulti da Salvini. E poi il caso, le famiglie di anziani che il paese dimentica il punto, l'altrazionismo polemico, una mina sul referendum. E la fotonotizia, l'artista dell'installazione sul Tevere, che delusione, togliete gli stand, oscurano Kentridge. Vediamo ancora, flotta away, Libia contro gli scafisti, il capo della commissione, così sconfiggeremo i trafficanti d'uomini. E poi ancora, l'attenzione al Brennero, l'Austria rafforza controlli, Mattarella, no alle barriere, servono ponti, non muri. Il giornale, gli affari dell'Inps, palazzinari con le nostre pensioni, l'Istituto di Previdenza costruisce e affitta case, ma ha già perso 245 milioni. Renzi, nuova promessa, assegni minimi più alti. E la sentenza shock in centropagina, il gatto è una cosa e vale pure poco, rubarlo non è un reato. Tute blu, vediamo, la classe operaia cerca il paradiso nell'inferno della destra. Ed ancora la strage delle scuole cattoliche, le tasse ne uccidono 300 l'anno. Nel taglio basso, l'antropologa che studia la tribù dei ricchi, il salvataggio del benessere. Libero, libero che apre con divorati i soldi dei pensionati, cassa disintegrazione che guaio. Dal 1980 oggi la CIG è costata 56 miliardi, collaboratori disoccupati rimassi a carico dell'ente anche per dieci anni. Renzi, aumenteremo gli assegni di 80 euro, ma il governo ha un piano per tagliarli del 12%. In centropagina, altro palazzo IMSS usato per le feste, cosa c'è poi da festeggiare, così titola. E poi l'Austria rinforza il muro, anti-immigrati, anche i verdi si incazzano, più soldati al Brennero. E poi che agonia, la Grecia in crisi, però chi la tortura è peggio. Passiamo al Fatto Quotidiano, in apertura, Montalbano contro i razzissi, i migranti non sono l'ISIS, i centolibri di Camilleri, il commissario affronta la lotta agli scafisti e poi sfruttati la Turchia, dove i bimbi siriani ci fanno i vestiti. Referendum poi in centropagina, Rai, il sì, ma c'è a reti unificate per il no, un minuto in tutto. Pace il presidente del comitato, solo un breve intervento al Tg3, poi più nulla. Il premier chiama alla battaglia istituzionale, mille professori. Dimissioni, ora servono da 5 a 7 miliardi, flop su Pop Vicenza, Unicredit, caccia la D. E poi ancora in breve, a Livorno, l'infermiera un po' troppo killer, il vero orrore sono i misteri, i risolti nell'ospedale. Passiamo all'unità, sblocca Roma, i primi 100 giorni di Giacchetti, al Via, cantieri per un miliardo in 40 mila. Al lavoro, tutor per la candidata del Movimento 5 Stelle, raggi in totale confusione, il mini staff del Casaleggio. In centropagina la fotonotizia, il pericolo non è scampato, in Europa un fronte comune contro populisti e destra xenofoba. Pensioni, aumenti per le minime, sì alle uscite anticipate e da Salvini, insulti a Napolitano. Il tempo, il quotidiano indipendente apre con la megatuffa dei biglietti al Colosseo, turisti raggirati. La procura indaga sull'aumento da 9 a 12 euro dei ticket, i 3 euro in più avrebbero fruttato oltre 15 milioni l'anno con la scusa delle mostre. E in centropagina, l'ultra della Roma, in galera per 26 anni, la morte del napoletano Ciro Esposito, durissima condanna per De Santis. In breve Salvini sbanda, i romani paghino il raccordo anulare, come perdere le elezioni. E poi candidati nel Lazio, tutti i comuni al voto, città per città, l'altra partita. E' ucciso da tassista ubriaco perché gli nega ad avere un altro omicidio in Prati. Ancora una donna all'Eur, come il film di Hitchcock, aggredita da un corvo. E nel taglio basso vediamo i segreti sull'odio Napoli-Romani, 30 anni di scontri annunciati ed ancora se il bagaglio ritarda ci guadagni, scatta la nuova sanzione prevista dall'Enac. La Gazzetta del Mezzogiorno, pensioni, aiuti alle minime, uscite flessibili e lo studio anche il riscatto leggero della laurea. Clima più disteso con i sindacati, martedì incontro a Palazzo Chigi. E poi in alto il giallo dell'impiegato scomparso a Monopoli. Si allunga l'ombra dell'omicidio suicidio, mentre a Bari allarme malavita per la festa di Palese. In centropagina, i magistrati in trasferta a Roma, mai ricevuto pressioni del Rio, lo conferma ai PM il ministro Partelesa nell'inchiesta di Potenza. A San Nicola con la Novara in gioco la semifinale play-off, Bari in campo stasera, o la va o la spacca. E poi dall'immigrazione al potere, al potere senza sapere. Avvenire, avvenire che apre con la fotonotizia, sgomberati al via all'esodo forzato incognite sul destino dei migranti. E poi la famiglia, ecco la prova, il buon aiuto funziona. Il foglio, vediamo in apertura, c'è un disco che gracchia Renzi e il passaggio da Principe del cambiamento a difensore di una nuova stabilità. Il gazzettino, vediamo omicidio di Est, il killer è il giallo della porta aperta e a Mestre, giro di vita sui Comprooro, tre chiusi, uno per tre mesi. Mirano cade dalla scala mentre lavora, ex elettricista, in fin di vita. E poi l'economia, pensioni, tre fronti per Renzi, governo al lavoro su minime uscite anticipate, ma il sindacato chiede anche rivalutazioni sugli assegni attuali. Ripreso il dialogo con CGL e Cisle, Will, clima positivo, ancora distanze sui contenuti. E a Venezia, vediamo in breve la mala del Brenta, torna in affari, maxitraffico di droga da Chioggia. In manette un ex, anche un avvocato nei guai. Il mattino ha ucciso Ciro, 26 anni all'ultra, la sentenza di primo grado condanna De Santis. Ed ancora il reportage, mamma Antonella, negli occhi di Gastone, vedo solo arroganza. Arroganza, Bagnoli, piano anticorrotti, Renzi, rilanciamo il mezzogiorno, se il comune non fa nulla facciamo noi. Firmato il protocollo con l'ANAC sulla bonifica. E poi il welfare, pensioni minime allo studio di rialzo e spunta il mini riscatto della laurea. Nel taglio basso, fortuna buttata giù dalla mia compagna Parco Verde, l'accusa shock di Tiro e il suo legale lancia la difesa. Avellino, gli sms tra calciatori e capo clan, la procura del Lazio, i rapporti con il boss, il difensore. Io non centro nulla, ha dichiarato. Il secolo XIX, vediamo in apertura Renzi, interventi sulle minime, pronti ad accordi per le pensioni, ma sulle riforme duello con Letta, incontro governo sindacati. Apertura anche sulle attività usuranti. E poi in centropagina la fotonotizia, nuova legge sul lavoro, la Francia brucia blocchi ai depositi petrolieri, scarseggia la benzina, ma il governo non cede. In Liguria, chi ha pagato i candidati i soldi a Toti da Calabro e Spinelli, in incognito molti donatori di Paita. Nel taglio basso, invece, l'intervista, l'investigatore, scusate, di Genova, l'anticipazione del nuovo giallo di Mocchio, Bacci, Pagano e il mistero dell'adolescente. Ci fermiamo qui con le pagine nazionali, passiamo al messaggero, vediamo in apertura. Così cambiano le pensioni, anche dal messaggero il governo apre su flessibilità, in uscite aumenti alle minime, Renzi la reversibilità non si tocca, disgelo con i sindacati, nell'agenda per la manovra, anche un taglio strutturale del neofiscale. E poi la fotonotizia, il delitto, prima della finale di Coppa Italia 2014, sangata per De Santis, 26 anni per la morte dell'Ultra del Napoli. Roma violenta, tassista ubriaco, uccide in enoteca per un drink, il killer, 33 anni, catturato dopo la fuga, il titolare aveva 76 anni. In breve le banche fanno volare la borsa, più 3,3%, Unicredit, il passo indietro di Ghizzoni, avvia la ricerca del nuovo capo azienda. E ancora vediamo in breve scontro fra i periti, giallo Egipteir, i 007 israeliani, minibombe in stiva. Entriamo all'interno, vediamo in primo piano quindi le pensioni, aumenti alle minime, è uscita flessibile con penalità, la BCE lancia l'allarme sulle riforme per l'avanzata dei partiti populisti e il negoziato Grecia. Verso l'accordo sui nuovi aiuti in arrivo un sostegno da 10 miliardi. Previdenza e lavoro, le novità in arrivo, il nodo delle risorse, serve quasi un miliardo per i correttivi alla legge Fornero, il bonus agli assegni bassi ne vale fino a 3. Equitalia, più semplice pagare i debiti a rate. Ancora vediamo in primo piano Mattarella dopo il caso Austria, basta cercare effimeri consensi. Il presidente ad Asiago, per ricordare la grande guerra, parla dei rischi per l'Unione Europea, la condanna di muri e nazionalismi senza ideali, prevalgono gli egoismi, ha detto. I domeni sgomberato, il campo dei profughi, deportati verso sud, ieri trasferiti i primi 1.500 dei 9.000 che ospita. Era assorto nel 2014 quando si affollò la rotta balcanica. Ancora vediamo la tragedia, non gli dà da bere, tassista ubriaco, sgozza un barista. Nel centro di Roma, al culmine di una lite, un 33enne di origini brasiliane colpisce al collo con una bottiglia. Il titolare del locale, l'uomo aveva 76 anni. L'intervista l'avevano già rapinato, mi disse, vivo nel terrore, la disperazione della sorella, e gli puntarono contro una pistola, per lui quel lavoro era una passione. L'incubo Prati, il quartiere bene diventato ostaggio della paura. In soli tre giorni, due gravi fatti di sangue, il caso della sicurezza, problema prioritario. Ormai le zone del centro sono tra le più pericolose, droga e alcol. Sempre protagonisti ancora avanti per Bagnoli, modello Expo, enti immobili. Tocca a noi la bonifica, Renzi firma il protocollo anticorruzione sulle procedure con ANAC e il commissario. L'attacco a De Magistris, basta chiacchiere, fatte troppe polemiche. Il sindaco è falso. E poi l'inchiesta a potenza del Rio nega le pressioni. Renzi attacca Raggi e Movimento 5 Stelle. Cocoprò della Casaleggio, duro a fondo del presidente del Consiglio. Di Maio replica, lui, espressione delle lobby. L'insulto di Salvini a Napolitano andrebbe ricoverato e insorgono i Democrat e polemica. E l'iniziativa bipartisan al Senato amnistia. Arriva il disegno di legge. Pannella il movimento. Poi nel taglio basso, Virginia sotto il controllo di un direttorio e lo staff milanese guida il blog. 5 Stelle, la candidata annuncia un super team di parlamentari che la affiancherà in caso di elezione. E poi ancora il Pia in calza Berlusconi. Ora scegli il tuo successore, il retroscena. L'allarme per il futuro dei moderati italiani al centro del colloquio con il presidente. Da un timore di una leadership dei Lepenissi di Lega e FDL, fratelli d'Italia, FD, scusate, fratelli d'Italia, Bertolaso, larghe intese per Roma. Il retroscena ancora. Salvini, pedaggio sul Graire di Meloni, così perdo. Alta tensione tra i due alleati. Il leader Lombard si dissocia da una via. Almirante l'ipotesi raccordo a pagamento alza lo scontro. Lui, frainteso, ma è bufera. Ed ancora vediamo dal mondo l'Egipteir, la tragedia del volo. Gli 007 israeliani, piccole bombe nella stiva. Prime rivelazioni sulle autopsie. I corpi dilaniati da un'esplosione. Il responsabile dell'inchiesta sono soltanto ipotesi prive di fondamento. Il giallo della presenza di tre agenti sul volo, secondo le autorità del Cairo, sarebbe normale. Routine. E poi il caso ancora in Libia all'annuncio di Stoltenberg. La Nato è pronta a intervenire. Il segretario generale serve la richiesta del nuovo governo. Il tweet sul vertice con il Premier. Bell'incontro con Matteo Renzi. L'Italia sta dando energia. Ed ancora dal mondo la mossa di Trump. Video accuse a Clinton di molessie sessuali. L'affondo del secondo repubblicano su due presunte testimoni accusano Bill. La risposta dei democratici arriva da Sanders Donald. Demagogo poco serio. Vediamo ancora tra le crona che il processo e quindi l'omicidio esposito. 26 anni abbiamo visto a De Santis. L'ultraggio al rosso ferì a morte il tifoso napoletano durante gli scontri prima della finale di Coppa Italia del 2014 all'Olimpico. I PM avevano chiesto l'ergastolo. L'imputato dovrà risarcire, oltre alla famiglia della vittima, i comuni di Napoli e Roma. E poi l'intervista a Leardi. Non l'ho odio, l'ho perdonato. Pena giusta, serva da monito. La madre di Ciro. Spero che quello che è successo a mio figlio non accada ad altri ragazzi, ha detto. Ed ora ancora, nelle cronache, l'inchiesta Coppola, arrestato per bancarotta ed evasione fiscale per l'accusa, avrebbe nascosto al fisco 320 milioni di euro, fermato davanti a un noto ristorante nel centro di Milano. L'indagine riguarda il fallimento di quattro società, una decina gli altri indagati, tra attuali ed ex amministratori. E ancora l'ordinanza, verifiche sui soldi da Etruria Proietti. L'imprenditore ai domiciliari per il finanziamento della sua società ottenne un fondo, nonostante i debiti. Prima pagina dedicata all'economia, come abbiamo visto tra gli articoli sulle pagine nazionali, la svolta Unicredit, il passo indietro di Ghizzoni. Il CDA e il banchiere hanno preso atto che sono maturate le condizioni per un avvicendamento alla guida dell'istituto. Avvita l'incarico di avviare il processo per il reclutamento del nuovo, coinvolgendo il comitato governance nomine. E con la pagina dell'economia ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, quali aggiornamenti, Giovanni, sul tempo? Ormai il tempo è in miglioramento, è migliorato già rispetto alla giornata di ieri e oggi si prospetta una giornata all'insegna del tempo stabile, prevalentemente soleggiato su gran parte del territorio regionale, perché rimonta una vasta area di matrice nordafricana e che soprattutto nei prossimi giorni favorirà anche un deciso aumento delle temperature. Aumento che sarà lieve, graduale nella giornata odierna e nella giornata di domani, ma che diventerà sensibile soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, quando i valori massimi potrebbero raggiungere su alcune zone, in particolar modo sulle zone collinare ed interne, anche i 28-30 gradi. Quindi è un anticipo d'estate, anche se non si tratterà di nulla di eccezionale. Questa è una situazione che spesso si presenta in questo periodo e che però, alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, durerà almeno fino alla giornata di domenica. Poi da domenica sera altra persona inizierà probabilmente ad attenuarsi a causa dell'arrivo di perturbazioni atlantiche che, se confermate, raggiungeranno anche la nostra regione nella giornata di lunedì, favorendo anche una generale diminuzione delle temperature. Quindi per le prossime ore, per la giornata odierna, quindi si prevedono condizioni di tempo stabile, è prevalentemente soleggiato, poi però gradualmente inizierà ad aumentare la nuvolosità di tipo alta e stratificata a partire dal pomeriggio sera e poi la nuvolosità tornerà a riproporsi anche nei prossimi giorni e sarà accompagnata, come spesso accade durante le rimonte dell'anticipione africano, dalla presenza di sabbia africana in sospensione. Quindi non aspettiamoci un cielo limpido, privo di nubi, ma ovviamente come spesso accade in queste situazioni, insomma il cielo tenderà a essere parzialmente nuvoloso o in alcuni casi anche coperto da questa nuvolosità alta e stratificata con la sabbia africana in sospensione che avremo almeno fino alla giornata di domenica. Quindi ecco questa è la situazione in sintesi Elisa, poche novità a parte l'aumento della nuvolosità e temperature in aumento da domani ma soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato anche sulla nostra regione. Grazie Giovanni, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie, una buona giornata anche a te Elisa e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet di Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande e quindi essere sempre aggiornati, soprattutto in tempo reale, sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. La seconda parte di mattino 6, passiamo alle notizie regionali. Dal quotidiano dell'Abruzzo, il centro, vediamo le prime quattro pagine. La pagina dedicata alla provincia di Pescara. In apertura il mercato etnico, i tempi si allungano. Pescara, le ferrovie, dettano le condizioni per autorizzare il tunnel. In centro pagina, Pescaresi, da esportazione l'idea del forno mobile e la pizza di Silvestro che fa impazzire Londra. Nelle cronache vediamo il manager attiva dal sindaco No ai Teodoro. A Montesilvano furti di cibo nei market, tre arresti. E poi verso il voto, Francavilla, candidati a confronto. Nessuno reclama il morto, ancora senza nome, il cadavere ripescato sette giorni fa a Pescara. E poi l'incontro in redazione, forum con magistrati e avvocati, legnini, processi lenti. Manca il personale. Passiamo alla prima pagina dedicata a Chieti, Lanciano e Vasto. Vediamo in apertura che l'apertura caro mensa a scuola con il panino. Chieti parte dallo scalo la protesta delle mamme contro le super tariffe. E poi in centro pagina, Vasto, Tintarella Rischio alla Marina. I cinghiali arrivano in spiaggia, ecco le foto. Tra le cronache invece il noto dentista Rapani ha assolto un incubo durato tre anni in Chieti. In Lanciano un comitato vuole salvare il tribunale, sindaci e avvocati insieme. E sempre in Lanciano, San Vito, estate coi parcheggi a pagamento, le strisce blu. Sotto vediamo Ferrari ha simulato Virtus, la prova TV squalifica la punta tifosi in rivolta. E poi la notizia su legnini che dichiara appunto processi lenti, manca il personale. Vediamo ora la pagina dedicata alla provincia di Teramo, la pagina del centro in apertura. La tragedia di ieri, il pescatore moto nel torrente Pasquale Stanchieri, 54 anni, recuperato senza vita nel rio San Giacomo. Ecco la foto del recupero del corpo del pescatore nella barella. Nelle cronache invece a Giulianova via ai lavori per nuove case e Cursal in Val Vibrata, inchiesta sui fondi alla Misericordia. In Silvi invece arrivano due nuovi supermarket. Nel taglio basso vediamo Brucchi a zero alla giunta, così potrò nominare la nuova squadra in comune, ha detto. Vediamo ora la pagina dedicata invece all'Aquila in apertura, l'Aquila Avezzano e Sulmona. Vediamo cosa riporta in apertura il sisma, cento fanti e pace in carcere, in cella due dei tecnici responsabili degli otto morti alla casa dello studente. In centropagina, officina l'Aquila, visita nei cantieri, il governo, ricostruzione, filiera di eccellenza. E poi nelle cronache, nell'Aquila ha provato il bilancio comune salvo, in Avezzano il concorsone della ASL, in 105 restano senza un lavoro. E poi a Sulmona, alla Marelli, salta l'accordo sui turni. Nel taglio basso vediamo invece scalciato dal suo mulo Rocca di Botte, grave agricoltore di 70 anni. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città. Vediamo in apertura questa mattina come apre la città. Sicuramente con la tragedia di ieri, eccoci, precipita e muore in un dirupo. Pescatore terramano di 55 anni esce di casa per una battuta alla trota, trovato dopo 24 ore a Cerqueto. Ed è su questo titolo che ci fermiamo per vedere il contributo video e appunto i dettagli nel servizio. E' stato individuato dopo un'intera mattinata di ricerche il corpo senza vita di Pasquale Stanchieri. Il terramano, 55enne, appassionato ed esperto pescatore, era uscito di casa ieri mattina verso le 10.30 per una battuta di pesca. Per la madre il suo ritardo, abituale nella notte, era diventato preoccupante solo al risveglio verso le 5, quando si è accorta che non era ancora rincasato. E' stato allora che è scattato l'allarme, immediatamente sono scattate le ricerche. Dopo ore il tragico epilogo, il ritrovamento del corpo senza vita del pescatore, in una zona impervia di Cerqueto di Fano Adriano, un luogo che solo in pochi conoscono. Il ritrovamento infatti è avvenuto grazie ai residenti del posto, che hanno indirizzato le ricerche verso il sentiero che porta al torrente San Giacomo. Solo poco dopo le 13, il corpo del pescatore è stato individuato galleggiare in un fosso d'acqua. Secondo le prime ipotesi, l'uomo sarebbe scivolato da un dilupo di circa 5 metri e finito in acqua, avrebbe colpito con la testa un masso. La polizia, coordinata dal capo delle volanti, Miriam D'Anastasio, si sta occupando delle indagini. Sul posto gli uomini della forestale, carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, polizia e guardia di finanza, tutti i soccorritori hanno lavorato per recuperare il corpo, ma alla fine si è reso necessario ricorrere all'intervento dell'elicottero vericellato, che ha raggiunto in quota la zona. Solo dopo una complessa operazione, durata oltre mezz'ora, ai vigili del fuoco di Pescara è stato possibile imbracare la barella con la salma e i sarla a bordo dell'elicottero per il trasferimento all'ospedale di Teramo. Il magistrato di turno, Stefano Giovagnoni, ha aperto un'inchiesta. Ed ancora in prima pagina, Giulia Nova, la fotonotizia, vediamo, presentato il progetto di restyling del Cursal, terrazza sul mare e poi in basso l'azzeramento di giunta per Brucchi. A Teramo si dimettono anche i quattro assessori superstiti, il vice sindaco Mirella Marchese, l'assessore al commercio Marco Tancredi, Mario Cozzi e l'assessore al sociale Valeria Misticoni. Entriamo all'interno, vediamo la pagina dedicata alla regione, a Teramo sempre sisma, appalti pilotati anche per le urgenze, la Guardia di Finanza denuncia quattro persone per i lavori di puntellamento di alcuni edifici storici. Le accuse contestate agli indagati vanno a vario titolo, dalla truffa ai danni di un ente pubblico, alla turbata libertà degli incanti dal falso ideologico in atto pubblico al mendatio bancario. E poi il Consiglio regionale, minuto di silenzio per ricordare Marco Pannella in basso, vediamo a Pescara, a Pilla abruzzese in calo dell'8,8% dal 2008 ma meno di tante regioni. La ricchezza pro capite degli abruzzesi è passata da 24.000 a 22.000 euro, meglio di noi Trentino, Toscana e Puglia. Andiamo ancora avanti, vediamo la crisi in comune, l'abbiamo visto in apertura, Brucchi passa per l'azzeramento di giunta, anche i quattro assessori superstiti rimettono le dimissioni nelle mani del sindaco per favorire il rimpasto, tavolo allargato, questa sera l'incontro nella sede del nuovo centrodestra a cui prenderà parte anche il gruppo di Fratelli d'Italia. E vediamo qui i quattro assessori che hanno appunto consegnato le deleghe nella giornata di ieri, il vice sindaco Mirella Marchese nella foto e poi a fianco l'assessore Mario Cozzi, sotto l'assessore al sociale Valeria Misticoni e l'assessore al commercio Marco Tancredi. Nel taglio basso vediamo il restyling non si ferma, nuovo allarme per reperti archeologici sul corso, Brucchi rassicura sono resti di strutture dell'Ottocento. Ancora avanti e sempre a Teramo, l'isola pedonale flop annunciato, auto in sosta negli orari non consentiti, il provvedimento resiste appena una settimana. E il coordinamento, i comitati di quartiere si uniscono per fare rete. Ancora vediamo la villa comunale nelle mani di una baby gang, studenti aggrediti, anziani insultati, danneggiamenti all'ennesimo episodio e intervenuta la polizia. Botte tra ragazzini di 13 anni, una mamma esasperata chiama il 113 per fermare il pestaggio e filma la scena. E la denuncia poi, sempre a Teramo, il degrado della Carlo Febo ha raggiunto il culmine. Ancora vediamo la provincia, pescatore precipita e muore in un dirupo, abbiamo visto la tragedia, esce di casa per una battuta di pesca Pasquale Stanchieri, 55 anni, trovato dopo 24 ore a Cerqueto. A lanciare l'allarme la madre del 55enne che non l'ha visto rincasare, è scattata poi la macchina dei soccorsi che ha visto entrare in azione, come abbiamo visto anche nel servizio, 118 vigili del fuoco, forestale, carabinieri, polizia, alcuni gruppi di volontari, amici e parenti. Nel taglio basso vediamo sempre cronaca frontale a Villa Ripa, traffico bloccato e due persone a pronto soccorso, due automobilisti si sono scontrati nei pressi del Bivio, lungo la statale 80 macchine deviate su un percorso alternativo. Ed ancora Isola del Gran Sasso, il Ruzzo presenta il progetto della centralina, energia dai salti delle sorgenti, in quota ha chiesto la valutazione di impatto ambientale alla regione Abruzzo, ambito anche da società private, il progetto sarà realizzato dal Ruzzo, che genererà utili per sistemare i conti. E ad Isola il sindaco dimentica le agevolazioni tari, ci pensa l'opposizione, il Consiglio approva il nuovo regolamento sui rifiuti senza calcolare gli sgravi per chi fa compostaggio domestico. Politica, Campli, Luigi Pizzuti, nuovo segretario del circolo democratico di Campli, il congresso di domenica mattina ha confermato, Patrizio Bontempo come presidente, nominato anche il direttivo. Bellanti al voto, vediamo chi ha detto a prova a riprendersi la poltrona, il candidato sindaco di Bellante e Bene Comune lancia la sfida, non scendo in campo per perdere, ha detto. E poi a Castellalto, noi non ci occupiamo di politica, ma pensiamo solo all'ambiente. Le Gadit rispondono al candidato Odoardi, dopo il rifiuto di partecipare all'incontro tra sindaci di domani sera. Vediamo a Martinsicuro, nuova raffica di multe contro le luciole, vanno avanti i controlli dei carabinieri nel territorio di Martinsicuro, l'ordinanza da diverso tempo in vigore, l'ordinanza appunto antiprostituzione del sindaco Camaioni. Albadriatica, Rom di 60 anni, condannata a due anni per spaccio di droga. Tra gli eventi, a Torano pochi fondi a disposizione, rischia anche la sagra di Torano. E poi a Tortoreto, non accetto critiche da chi non partecipa ai consigli, l'ex sindaco Alessandra Ricchi, nella foto risponde alle accuse del movimento. 5 stelle. Piani urbani, vediamo a Giulianova, nuova vita al Cursal e housing sociale. L'amministrazione è presente al programma di lavori da 4,5 milioni di euro da attuare. In 5 anni, i finanziamenti sono stati attivati dalla Giulianova Patrimonio, arriveranno in parte dalla regione e in parte da un mutuo bancario. I nuovi alloggi saranno destinati alle giovani coppie, agli anziani, ai lavoratori in mobilità e alle famiglie con figli. E sempre a Giulianova un bando per sostituire il CDA dell'ambito sociale, smentito l'ottimismo di Francesco Mastromauro. Ancora vediamo a Pineto, farmacia comunale a rischio, scaduti i termini per nominare il CDA, l'opposizione attacca il sindaco Verrocchio, l'accusa, i curriculum sono arrivati in comune, ma il sindaco continua ad aspettare, senza un motivo. E sempre a Pineto, gli imprenditori croati e bulgari pronti a investire nel turismo pinetese. A Roseto, invece, grande successo anche per i gazebo di Girolamo e le celebrazioni ad Atri, che si preparano ad ospitare la festa della polizia, prima della cerimonia di domani mattina, saranno resi gli onori ai caduti. La cultura, vediamo con Teramo Eroes, il fumetto è donna, sfida gli inesper di Gian Domenico e la DC Comics lo blinda per gli USA. Torniamo al messaggero, vediamo all'interno, e quindi la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo, vediamo in apertura, eccoci, in prima pagina, vediamo in apertura la casa dello studente, e quindi gli arresti a sei giorni dal verdetto della Cassazione, manette per due dei condannati, per il crollo in cui morirono, ricordiamo, otto studenti in carcere, Pietro Centofanti e Berardino Pace. Il discorso di Ancona, vediamo tanta voglia di Marche, la corte di D'Alfonso, in breve, ed ancora dopo lo sgombero, mercato etnico, ordine, legalità, le condizioni, nel vertice di ieri, le condizioni di ferrovie, per concedere il sottopasso, e poi la tragedia, mistero nei boschi del cerqueto, va a pesca di trote, lo ritrovano morto, nel taglio basso, scuole nel mirino, telecamere a Lanciano. Vediamo all'interno, con i voti dell'opposizione, passa la legge sul trasporto pubblico, la normativa sui servizi minimi, rischia di essere impugnata dal governo, davanti alla corte, costituzionale, se ne è discusso ieri, durante il consiglio regionale, poi lo scontro, l'abolizione dei doppi vitalizi, torna in commissione, esplode la protesta dei grillini, anche con cartelli, l'analisi, nel taglio basso, allarme e disagio minori, l'allarme del procuratore, esiste il fenomeno della violenza, tra ragazzi, si tira a far male, a mandare all'ospedale. Prima pagina dedicata a Pescara, vediamo che apre con il mercatino, le condizioni di ferrovie, sicurezza e legalità, alla base della concessione del tunnel, della stazione, dove sistemare gli ambulanti senegalesi. Alessandrini, il sindaco, non faremo un doppione, della vecchia sede, ci saranno orari, ingressi sorvegliati e regole da rispettare. Il debutto software, vediamo per la tassa di soggiorno, il comune convoca gli albergatori e edilizia in breve, comune e asl, una corsia preferenziale per le pratiche. Nel taglio basso, la vertenza exattiva, cassa integrazione in arrivo, il caso degli ex interinali, esaminato dal comitato crisi, in arrivo il bando, per il nuovo vertice. E poi il partito dell'acqua, avvocati in sciopero, la sentenza slitta. Ieri, ci fermiamo su questo articolo, perché ieri è appunto sciopero degli avvocati e sono saltate le udienze, anche a Pescara, quindi è stata molto partecipata la giornata di sciopero degli avvocati. Vediamo il contributo video di Paolo Renzetti. Presidente Di Campli, oggi attività paralizzata in tribunale a Pescara per lo sciopero degli avvocati. Quali i motivi di questa estensione? Le Camere Penali, a livello nazionale, hanno indetto tre giorni di estensione dalle udienze penali, quindi solo quelle penali, per protesta contro il disegno di legge che modificherà il termine di prescrizione, dei reati. Quindi cosa vuol dire questo in soldoni? Cosa chiedete? Le Camere Penali chiedono essenzialmente che non sia l'imputato a dover scontare a suo danno le lunghezze del processo. Si vuole che il processo sia celere, che abbia tempi certi e che quindi la sua situazione di soggetto sotto giudizio non debba protrarsi troppo a lungo. Parlando del tribunale di Pescara, dove ci troviamo oggi, quanti sono gli avvocati che si astengono dalle udienze? Ma da quello che si può vedere nelle aule di udienza, l'astensione credo che sia quasi totale da parte degli iscritti all'ordine di Pescara. All'interno delle pagine dedicate a Pescara vediamo la sorpresa. Rosticini e parti Pescara nel nuovo rap di Rocco Ando. una strofa dedicata alla città nel disco per l'estate del cantante napoletano. Alessandrini felice, il nostro alimento simbolo è ormai diventato un volano. Il programma da Fabia Caposella, spiedino o no, ci aspettano serate di grande musica. Ed ancora il braccio di ferro, vediamo, autodisco Filippi, il derby di Bussi, il partner preferito dalla Solvai, per la vendita delle aree e del polo chimico, aveva già avanzato una proposta al comune, l'amarezza del sindaco Lagatta, dopo il fallimento dell'accordo di programma. I giochi sono ormai fatti. La ricorrenza, Pescara e Popoli, tra mostre e convegni, l'omaggio di due città al signor Vespa. E l'omaggio ancora, nasce il Paladin Martin, Montesilvano ricorda il figlio del barbiere emigrato. La trappola, razzia nei supermercati, arrestati tre specialisti. Ed ancora, nel taglio basso, storici e giuristi, verre la giustizia, spettacolo, dibattito tra storia e attualità. Andiamo avanti, pagina dedicata all'Aquila, che apre con il verdetto appunto, casa dello studente, arrestati due dei quattro condannati. E a Caselvecchio, vediamo in breve, appalti post-sisma nei guai società e imprenditori marchigiani. In comune, bilancio approvato, ora è il momento della resa dei conti. Ed ancora, Palazzo del Governo, dopo quattro anni, il 31 ottobre, lascia il prefetto, Francesco Alecci. Montereale, piccola bara abbandonata, fuori il cimitero, è un giallo, è l'inchiesta, morto in autostrada. Sette indagati, si tratta di medici che si sono occupati dell'anziano, dal pronto soccorso al reparto di rianimazione. Ancora, vediamo l'evento, De Micheli, conferma per 640 lavoratori della ricostruzione, la sottosegretaria, officina l'Aquila, ora serve un poderoso incremento demografico per decollare. La novità tour tra i palazzi e segreti del centro, nelle visite guidate, svelate le tecniche più innovative di ricostruzione. Il programma intanto, in breve oggi spazio alle innovazioni smart, e poi cittadini giardinieri, aiutateci voi a tagliare l'erba, l'appello del sindaco per ora. Divide, plauso all'iniziativa, arriva da sbaffo dell'Urban Center. Sanità, ferie estive, sospese alla ASL, insorge la Will. E ad Avezzano, sgominato il market della droga, gli agenti della polizia individuano un casolare, nel quale si stavano preparando le dosi da smerciare. Il blitz è stato effettuato un autentico laboratorio, che veniva utilizzato come abitazione di roccata clandestina. A Celano, Consiglio Comunale con polemiche, a Sulmona la giostra cavaleresca viaggia in treno. Sempre a Sulmona di Giandomenico, asse per cambiare la città, il candidato della lista sovranitale comunale, è piaciuto il mio impegno. E sempre a Sulmona, sbic, campagna elettorale d'artista, gli artisti Monticelli e Pagone, hanno griffato il programma in economia. In breve a Rocca di Botte colpito alla testa dai calci di un mulo grave un settantenne. Ad Avezzano, la donna ricercata in marsica, è stata uccisa. Pagina dedicata a Chieti, in apertura alla vertenza, il primo giugno alla nuova era Thales, in 23 nell'organico della New Co. Gli ultimi dettagli dell'accordo, definiti nei giorni scorsi, dopo una serie di incontri, da verificare ancora gli aspetti retributivi e occupazionali, previsti bonus economici. E l'iniziativa IKEA, la più grande azienda sostenibile del territorio, raccolta differenziata energia elettrica da fonti rinnovabili, è una casa dell'acqua, anche in questo modo si può fare profitto. Le spine vediamo in breve, Febbo, un ODG per aiutare il Ciappi, Ateneo, elezioni alla D'Annunzio, la 360 gradi, la più votata, e la sentenza, Terre d'Oro, assoluzione per il dentista Rapani. Vediamo ancora in Lanciano, furti in città, arrivano 41 telecamere, un'impennata dell'ondata all'Adresca, contro numerose scuole, abitazioni private, negozi, si è abbattuta negli ultimi tempi, sono già state installate nei punti principali del centro storico, è pronta a entrare in funzione, non appena fatti i collegamenti. In breve Lanciano, Sasi, l'impegno di Basterebbe, per la tutela ambientale, a Basto, Villa Falcone Borsellino, iniziati i lavori di pulizia. Sempre Basto, l'associazione Porta Nuova interroga i candidati sindaci, Lanciano, tribunali da salvare, avvocati in assemblea, e ad Ortuna, Dragaggio, il comune riparte con l'iter. Teramo muore per andare a pesca di trote, la vittima è il 54enne Pasquale Sanchieri, che si era recato nei boschi del cerqueto, di prima mattina, conduceva una vita ritirata dopo essersi separato, viveva assieme alla madre, aveva avvisato gli amici. Lo vediamo nella foto, Sanchieri di famiglia molto conosciuta, suo fratello Simato Artigiano, era ex dipendente della Teramo Ambiente. Vediamo i danni, vandalinazione alla scuola Febo, l'edificio è chiuso da anni dopo il sisma, la segnalazione è stata fatta dal capogruppo del PD d'Alberto e da Filipponi di Teramo Cambia. La crisi poi azzerata la giunta, Brucchi può scegliere, hanno rimesso il mandato gli ultimi quattro assessori, rispettando le consegne. Corso San Giorgio, spuntano antichi reperti romani, ma il sindaco, come abbiamo visto, rassicura i lavori andranno avanti. A Giulianova ecco il Cursal, una terrazza sul mare, presentato il progetto di ristrutturazione che riguarderà anche il seminterrato che sarà riservato ai giovani. Il primo piano svilupperà la vocazione del centro congressi e diventa finalmente fruibile l'ascensore che si perdeva nel vuoto al Badriatica, vigilanza armata nella Bambinopoli e Pinete. A Giulianova ambito sociale Tordino, avviso per un componente. E ancora Giulianova, commercio, Giorgini replica al duo Belgiglio-D'Angelo, loro sono contrari a tutto, noi invece avanziamo proposte. Bullismo tra ragazzi nella villa comunale e poi ancora Val Vibrata, retata di prostitute lungo la bonifica. A Roseto di Girolamo, patto per la sicurezza. Ed ora la pagina sportiva, Abruzzo Sport che apre con Oddo, Pescara si riparte, dico che siamo la favorita nei play-off, perché credo molto nella mia squadra, ma non significa che vinceremo di sicuro. Finora è stata una stagione da otto, ma ora non basta solo giocare bene, servono temperamento e intelligenza. Lo ha detto appunto l'allenatore della Pescara, Massimo Oddo, ieri in conferenza stampa e lo ascoltiamo nel contributo video. Si azzera tutto perché... Si azzera tutto. Ognuno, ogni squadra parte dalle proprie certezze, da quello che ha costruito durante un anno. Noi abbiamo fatto un ottimo lavoro perché alla luce di quanto fatto, alla luce di una squadra praticamente nuova, alla luce della vendita di giocatori importanti e della ricostruzione quasi totale di questa squadra, abbiamo fatto, credo, un grande lavoro. La differenza con l'anno scorso, per quanto mi riguarda, è che l'anno scorso ho dovuto lavorare più che altro sulla testa, tenendo poco presente quello che è il lavoro sul campo, perché ovviamente non c'era tempo. La differenza ad oggi è quella che ci portiamo dietro il bagaglio dell'esperienza di un anno fatto insieme e quindi c'è una base di certezza in più per quanto mi riguarda. Ma alla squadra do un otto, un otto pieno perché, ripeto, non era affatto semplice ripartire praticamente da zero. Io preferisco non darmi un voto, preferisco che gli altri lo diano a me. io quello che posso dire è che ho messo tutto me stesso, il massimo impegno per cercare di trasmettere quelle che sono le mie idee e il merito e dei ragazzi che hanno saputo recepire bene il mio modo di vedere il calcio. Ma se tutti danno per favore di Pescara è perché vedono nel Pescara determinate qualità. Se voi chiedete a me chi do per favorito anch'io vi dico il Pescara perché credono ciecamente nei miei ragazzi, credono ciecamente nel lavoro che abbiamo fatto fino a questo momento, ma questo non vuol dire assolutamente peccare di presunzione, non vuol dire che vinceremo sicuramente, vuol dire che ci crediamo fortemente. Allo stesso tempo sappiamo perfettamente che non c'è una favorita, che sarà veramente durissima contro qualsiasi squadra e ce la giocheremo fino in fondo. Però noi crediamo in quello che abbiamo fatto fino a questo momento e crediamo in quello che possiamo fare. Poi ci vorranno anche tante altre componenti, guarda la fortuna. Ed ora la Virtus vediamo stangata Ferrari due turni, il bomber squalificato per la simulazione sul rigore a Livorno, a Menta, siamo abituati a soffrire, ce la faremo anche stavolta. Per l'attaccante è stata usata la prova televisiva oltre a Di Francesco, anche lui assente con la Salernitana. E poi il calcio di Lega Pro, vediamo l'Aquila perde peso, li bulevardi in dubbio, perrone nei guai in vista del ritorno dei play-out. Il Teramo Calcio vediamo tra Teramo e Zauli. Accordo ai dettagli, oggi l'annuncio l'ex Sant'Arcangelo ha superato allo sprint Pea e Romaniello. Vediamo anche qui il contributo video di Jacopo Forcella. A meno di clamorose sorprese dell'ultimo istante sarà Lamberto Zauli il prossimo allenatore del Teramo, il tecnico che quest'anno ha guidato il Sant'Arcangelo, penalizzato ad una salvezza insperata, e l'uomo scelto dal sodalizio di Via Oberdan per sostituire Vincenzo Vivarini. Una carriera da calciatore di assoluto livello, una da allenatore ancora tutta da costruire per il 45enne, ex trequartista di Vicenza, Bologna, Palermo in Serie A. Massima Serie a cui però Zauli arriva tardi dopo una lunga trafila in provincia. Molta Serie C dal 2009 in poi, quando dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Zauli si trasferisce a bordo campo e si siede in panchina. La prima esperienza con il Bellare e Giammarina. Poi Fano, Reggiana, il ritorno a Vicenza, ma Sponda Real, Pordenone e infine Sant'Arcangelo. Raccoglie una squadra comunque fiaccata da sei punti di penalizzazione, ma riesce comunque a raccogliere. 39 punti, grazie soprattutto alle 12 reti dell'ex Chieti Marco Guidone, punto ormai ad essere un bomber di categoria. Non solo lui però, perché i romagnoli hanno potuto contare sulle incursioni di Francesco Margiotta e le invenzioni di Dario Venitucci, due che potrebbero entrare nell'orbita bianco-rossa nel prossimo mercato estivo. Nulla da fare dunque, a quanto pare, per Fulvio Pea, che negli ultimi giorni sembrava il principale rivale di Zauli per sedersi sulla banchina del diavolo. Invece, specie nelle ultime ore, era stato sorpassato anche da Leonardo Colucci, tecnico della Primavera del Bologna. Con Zauli il Teramo fa una scelta ben precisa, affidarsi ad un tecnico giovane pronto a lavorare per un progetto non a brevissima scadenza. Nelle prossime ore Zauli potrebbe arrivare in Abruzzo per limare gli ultimi dettagli di un accordo che sembra praticamente fatto. Poi inizierà il mercato per il rafforzamento della scuola bianco-rossa. Questione di ore, ma sembra proprio che a Teramo sia per iniziare l'era targata. Lamberto Zauli. Termina qui la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani, puntuale, alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.